ciao frate e ciao sorella volevo dire una cosa ho deciso di non mettere più titoli strani tipo vado a comprare vado a comprare la drugs quando sono andato in farmacia sono andato in farmacia e ho scritto il titolo vado a comprare la drugs io metto questi titoli un po strani un po forti diciamo pure per ricevere visualizzazioni magari pure nuovi iscritti che ne so però visto che tanto i nuovi iscritti e visualizzazioni non ci stanno uguali i nuovi titoli che metterò saranno titoli semplici normali senza doppi riferimenti che poi a parte il doppio riferimento io oggi sono andato in farmacia se il titolo un pochetto c'è c'è sabina alla farmacia perché vado a comprare drug se sono andato in farmacia in fondo alla farmacia che vende oggi stamattina io ci sono andato per comprare un medicinale per diabete ma le farmacie vendono anche psicofarmaci e psicofarmaci se vai a vedere so una droga legalizzata dallo stato per cui il titolo non è proprio inappropriato diciamo che anche appropriato proprio questo però io l'ho messo ecco per questa faccenda che vuoi detto a voi per le visualizzazioni per gli iscrizioni che però vabbè non ci stanno uguale per cui farò metterò titoli normale senza doppi riferimenti cose strane no vabbè tutto qua quello che ve lo dì ve l'ho detto io vi saluto ciao frate ciao sore